Berezzi quindi benvenuti in questo nuovo video, sono qua in questo video per andare un po' a vedere come è andata questa giornata e come volete vedere arriva un ennesimo pareggio, un pareggio comunque abbastanza inutile in realtà soprattutto a livello di classifica io partirei subito da qui, comunque una classifica che mi vede nel settimo posto in classifica, quindi la parte destra della classifica male 5 punti dopo 4 partite e non riesco comunque a vincere, pareggi, tanti pareggi ma poche poche vittorie e comunque anche Psicorumun non era semplice questa giornata perché affrontavo comunque prima in classifica che stava facendo bene però, e sta facendo bene però onestamente qualcosa in più si poteva fare in realtà diciamo che di scelte che potevo fare diverse, onestamente anche se avessi fatto queste scelte tipo mettere che ne so Luis Alberto al posto di uno Svanberg eccetera, non penso di comunque cioè non penso che fosse arrivato lo stesso a 78, quindi comunque la partita non l'avrei mai vinta però comunque questo è, tra l'altro mi ha dato anche bene che lui non ha giocato Bonucci per dire quindi nonostante gli abbiano fatto tantissimi bonus, però comunque una giornata in cui tanti bonus anche comunque per i miei giocatori andiamo un po' a vedere, allora lui ha fatto 73, quindi comunque un punto in più sopra il 72, quindi due gol precisi con Andanovic che gli ha preso 3 in porta, Danfris 6, Lazio non l'ha giocato, ha dato Alex Sandro 5,5 Kulibali 6, Maggiore Erasovic 5,5 e poi la fiera dei bonus per i tu, gol assist e ammunizione 10,5 Barella assist e ammunizione 7, Bogat assist 7,5, Leao 6,5 senza niente e Lautaro gol, quindi 10 e quindi in totale 73, invece io come dicevo ho fatto 75,5 con comunque diversi bonus quella Vicario mi ha preso 4,5, anche questa giornata ho canato la scelta del portiere nonostante lui abbia preso 6,5 comunque ha preso un buon voto, perché vedete qui entrambi hanno preso 2 gol però uno ha preso 6,5, di valutazione l'altro 5, quindi farvi capire no? Ha fatto una buona prestazione però con quei due gol li ha incassati, quindi non bene Karlsdorp 5,5, Bremer e Molina comunque 6, Tato Molina subentato agli ultimi minuti Svanberg 5,5, Sottil non ha giocato ed è entrato Pereira 6, tra l'altro Bonifazi ma ha fatto auto Bonifazi sta facendo malissimo sta giornata, l'altra volta ha preso 4, sta giornata autogol bene o meno aree che non l'ho messo, Barak e Bairami gol entrambi, Barak 10 gol sul calcio di rigore Bairami gol su rigore e comunque gol decisivo quindi 11, Harry non gioca comunque entra nel finale mentre Bonazzoli che prende 5,5 con la munizione, Breca non mi segna, sono contento comunque se si è sbloccato che abbia fatto comunque il primo gol dell'anno, prende comunque 10 sono contento perché è un giocatore su cui comunque ho puntato e poi Abra un 5,5 onestamente non sono d'accordo perché avendo visto la partita per me non era da 5,5 in posizione di Abram però comunque ha preso 5,5 perché non ha segnato visto che i voti di Fanta Gazzetta sono fatti col culo semplicemente perché sono un segno e un attaccante gli diamo 5 vabbè a parte questo 75,5 quindi un 2-2 che non mi porta a niente perché è una vita che avrei dovuto vincere ripeto per la classifica per scalare posizioni invece sono nei bassi fondi e sto facendo un po' di fatica la prossima giata è in cui affronterò il terzo quindi comunque è uno scontro importante per recuperare punti e posizioni su quelli che mi precedono e vedremo un po' comunque come andrà metteremo la formazione e ne parleremo comunque nei prossimi giorni a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao